Musica Musica Apriamo ufficialmente la settimana del Carnevale Saronnese. Il sindaco a nome dell'amministrazione comunale qui presente con l'assessore delle culture Cecilia Caratera consegna, affida in buone mani a Re Amaretto le chiavi della città settimana prossima sabato alla stessa ora Minuto più, minuto meno, neve più, pioggia meno, ci ritroveremo nei paraggi per la riconsegna delle chiavi. Abbiatele buona cura, conservatela con la storia gelosa e che si aprano le danze, i giochi, i divertimenti della settimana del Carnevale Saronnese. Un ringraziamento naturalmente va a tutti gli organizzatori, agli amici del Carnevale Saronnese, agli amici della banda Saronnese.